ragazzi uomo donna donna che dove ci metto donna donna lo so uomo donna donna commettiamo dai io dico uomo donna verso pezzo volta non lo dico più grande sbaglio mio sei tu bisogna crescere oramai se ora adesso penso a te vuol proprio dir purtroppo che ho scelto te evanescente come un fumetto di eroi e di avventure vuol proprio dire che anch'io inseguo in fondo un fine mio sognare e riprovo insieme a te questa è una voce importante è una voce importante insieme a te ancora nonostante so io la conosco sta voce troppo presa e tu lo sai e anche che l'hai messo e io ci vorrei senza un bricciolo di testa come se adiassi me odiasi me odiasi me odiasi me che è brava la nostra prestitiva brava voce italiana una voce super italiana italiana siete bellissimi brava tu sei bellissima come ti chiami? Triesto Laura in arte contessa di Cagliostro alla faccia proprio che bello che meraviglia però c'è una storia perché c'è Cagliostro che cosa fai? è qui che ti volevo Gigi ecco ecco io sono medium sensitiva è una cosa non di tutti i giorni chiedo scusa ma come mai contessa di Gliostro Cagliostro ah Cagliostro sì è Cagliostro eh no dico perché contessa di Cagliostro? perché vedi Cagliostro è nominato anche nella storia sì fu un famoso veggente del Settecento ah ok comunque io ti voglio dire una cosa sembri un evidenziatore come ti sei scusa sei fantastica proprio ma io ti ringrazio mi piace molto se vi mettete insieme pari da cartolibrerì comunque no senti potremmo io ti voglio dire mi dispiace non essermi girato siete ma si sembri scemi è la terza edizione si sembri scemi come la prima scusami professore allora si sono girati i ricchi e poveri e Clementino tu fai la medium se vai con Clementino ti legge la palle e vetre quindi se scegli i ricchi e poveri Clementino io nelle carte siccome le carte hanno significato esatto io in Clementino vedrei lo zero il folle e capite cosa? perché lui è folle ma perché sono zero? perché gli artisti che sono gli artisti sono folli è bene nei tarocchi lo zero è il folle ah ma il folle è anche il mattacchione esatto e i ricchi e poveri? i ricchi e poveri li vedo negli arcani maggiori il numero sei noi siamo sei e sono gli amanti l'amore la carta di Loredana è la mia carta Loredana la vedrei al numero undici che è la forza bene e a me? bello Gigi le darà il sole perché ha un cuore che illumina numero diciannove bravo Gigi adesso devi scegliere tra queste carte allora tra il folle il folle è l'amore scelgo scelgo l'amore bravo va bene scelgo l'amore grazie a te Grazie a tutti.